Possiamo valutare gli effetti della spiritualità? Sì, certo, è possibile. Ci sono migliaia di studi. Negli ultimi 30-40 anni la maggior parte di questi si sono incentrati non solo sulla disabilità, la maggior parte di essi riguarda proprio la salute medica, la salute medica generale, molti anche per le condizioni di malattie psichiatriche o di salute mentale. Molti di questi studi si sono occupati anche delle dipendenze come l'alcolismo e guardano al ruolo della spiritualità e agli atteggiamenti delle persone come strumento efficace per una più rapida ripresa, come la spiritualità li aiuta ad affrontare meglio ciò che accade loro o ad affrontare una brutta diagnosi. Gli stessi medici sanno che è un atteggiamento positivo, avere un senso, un obiettivo nella vita, un senso di comunità o il sentirsi amati e curati dagli altri è essenziale nella malattia. Sono tutti importanti e penso che siano parti importanti della spiritualità e quindi ci sono molti studi. C'è anche bisogno di guardare di più alla spiritualità delle persone con disabilità intellettiva e a quanto sia importante per loro e soprattutto alla differenza che essa fa. Potrei raccontarvi davvero moltissime storie sulla differenza che penso faccia, ma non ci sono molti studi approfonditi al riguardo purtroppo. Grazie a tutti.